ciao giuseppe simone buon pomeriggio questo limone che rubai tempo fa nella tua campagna a neviano assaggiamo che schifo anche che c'è messo uno sterco c'è messo a me il limone piace ma questo fa schifo sa di sterco dammi il tuo numero di telefono ti aiuto io ti aiuto io a trovare tanti uccellini tanti bei cetrioli da mettere nel tuo culetto medio del ma mille volte meglio di te adema io sono tanti anni che so mica di adema ma di te non sarò mai amica invece di mendicare perché non vai a lavorare ma un applauso un applauso un applauso ma questo è forte quanto è forte chi è forte chi 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 meno di zero sei uno sterco sei poi questo è tuo questo dicono che è così mi fai vomitare i tuoi video li guardo per andare a fare lo sterco lo sterco vado a fare quando guardo i tuoi video ora ti saluto ciao ciao sterco ciao ciao sterco